Amore mio, cosa ne pensi di questa nuova iniziativa Vita da Ostello? Che dovrebbe iniziare dopo le undici e mezza di mattina. Oggi abbiamo l'uomo che finisce tutta la colazione, inizia alle otto, finisce alle undici e svaliggia tutto perché è tutto incluso. Sono arrivato alle nove stamattina. Vabbè, allora finisce mezzogiorno. Sì.